Se i bambini non vanno al circo, è il circo ad andarli a visitare. Succede all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Gli artisti del Ronnie Roller Circus si sono esibiti davanti ai piccoli pazienti, presenti nelle aree gioco dell'ospedale e in alcuni reparti. 15 artisti tra clown, acrobati, giocolieri, hanno risposto all'iniziativa del Dicastero Vaticano per il servizio dello sviluppo umano integrale, in collaborazione con l'ospedale della Santa Sede. I più piccoli hanno anche potuto cimentarsi con le arti circensi. Brava! 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 Io e la mia famiglia e gli artisti ringraziamo questi bellissimi bambini che ci danno il piacere di fare questo bellissimo spettacolo per voi. Quindi siamo felici, grazie a voi con l'esterno. Il Cardinale Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio allo sviluppo umano integrale, ha salutato il personale dell'ospedale definendo gli operatori sanitari espressioni concrete della misericordia di Dio. Mentre per il Cardinale gli artisti del circo sono gli artisti più veri, spesso anonimi e sempre coraggiosi, poiché hanno l'unica missione di portare felicità. E i circensi hanno salutato i bambini con un arrivederci a presto. Ciao! Ciao!